Proprio come hai detto tu, Lucertolone, zona d'ombra a sinistra. Ok, muoviamoci! A rapporto missione, entrati in territorio nemico senza preventiva ricognizione. Procediamo nella fortezza di Zurk. Il reparto con tutti quei bazi è adatto alla festa. Oh no! Da quale parte andiamo? Di qua! Come fai ad essere sicuro? Io sono Buzz Lightyear, sono sempre sicuro! Siamo stati scoperti! Le pareti si stringono! Aiutatemi ad alzare il patatone, lo saremo sfacciati! Mettimi subito giù, broccolo! Ragazzi, guardate, non sono le pareti! È l'ascensore che si muove! Andiamo, non c'è tempo da perdere! Pronti? Afferrate la corda! Ma... Come... Eh? Ah! Eh... Buzz, perché non prendiamo l'ascensore? Perché è quello che Zurk si aspetta! Un'utilissima cinghia con un gancio! Un'utilissima c'è per chat! Sì, non è vero. Non c'è tempo da perdere! Ma non c'è problema! Da questa parte, Marsch! Oh, 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 oh. Ecco ciò che dovresti fare. Non c'è tempo da perdere. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Meglio che ti sposti dalla traiettoria del mio laser. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Sì, è vero. C'è un po' di più. C'è un po' di più. E' meglio che ti sposti dalla terra. E' meglio che ti sposti dalla terra. Non c'è tempo da perdere! Non c'è tempo di sposti dalla terra. Non c'è tempo di sposti dalla terra. E' meglio che ti sposti dalla traiettoria del mio lato. Non c'è tempo di sposti dalla terra. Non c'è tempo di sposti dalla terra. Meglio che ti sposti dalla traiettoria del mio lato. Non c'è tempo di sposti dalla terra. Non c'è tempo di sposti dalla terra. Non c'è tempo di sposti dalla terra. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.